A sputa il rospo, anche i bambini e le bambine, c'è Angelica che deve sputare un rospo. Allora Angelica, qual è quella cosa proprio che ti dà fastidio? Che è accaduto? Una tua amichetta? Ti risponde male, ti fa i dispetti? No, sta sempre attaccata a me. Ma forse ti vuole bene. Sì. Però ti dà fastidio? Sì. Perché ti dà fastidio? Non lo so. È un po' pesante? È un po' scocciante. E allora manda con l'appello, guarda lì la telecamera. Dice, cara amichetta, per favore, stai un po' più lontano. Vuoi chiedere l'intervento di Zollo? Sì, Zollo. È presto detto, cara Angelica, la prossima volta che vedi la tua amichetta comincia a cantare Stai lontana da me. Zà, 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 zà. Ha, 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 ha.